di più quindi possiamo farlo benissimo perfetto grazie max sono in diretta fammi inquadrare bene in diretta dove? su facebook su Pierisa della Rube facebook 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 puoi parlare ecco la prima cosa che vi volevo dire a voi ragazzi che siete arrivati qui è venuti sulla Piana Sagra perché non tutti ci riescono a arrivare molti si fermano prima della cordata perché non ce la fanno non perché gli manca qualcosa ma perché la montagna non gli vuole li vomita e restano bloccati lì sono diciamo persone che hanno addosso una forte negatività e quindi sono destinati a restare lì possono solo tornare indietro non possono proseguire come dicevo prima tra i racconti di zia Mattia c'erano tante cose assassinate però durante il tempo dell'intervista che faceva gli anziani durante quegli anni man mano a mano che passavano il tempo le donne del borgo anche tutti quando avevano dei documenti particolari documenti un po' particolari e strani mi li portavano a studio a farmi vedere che potevano essere le formule del malocchio oppure tutte le preghiere del guaritore come si doveva togliere certe malattie come si dovevano fare certi inguenti poi c'erano le ricette dei dottori in foglia un giorno invece mi hanno portato un documento molto strano molto raro era un documento che raccontava di una strega non delle figlie della luna ma di una strega cosiddetta vera strega che è stata bruciata nel 1346 questo documento era particolarissimo perché raro perché poi dopo che io l'ho pubblicato sul libro non si è più trovato l'originale abbiamo soltanto le fotocopie e chi le vuole per studiare possiamo dare le fotocopie questo documento come dicevo raccontava particolare di una strega bruciata e qui leggiamo tutto quello che diceva di questa donna è un atto notarile Notaio Giovanni di Andrea di Alberto protocollo numero 29 carta 37R anno 1347 nel nome del Signore Amen sono qui riportate elencate le spese fatte da me Giovanni per mandato di serra ai mondo camerario Pietro Bartucci e Giovanni Budi carnefici che intervennero all'esecuzione di Rita Angeluti bruciata il giorno 11 nel mese di agosto ebbero per loro salario soldi 20 Sisto e Clemente Castaldi per se stessi e gli altri soci che intervennero alla detta esecuzione ebbero soldi 10 Vanes Petrucci per il trasporto sull'asino che portò la pretetta alla detta esecuzione ebbe soldi 5 Sandro Petruccio e Agabito che intervennero all'esecuzione predetta ebbero soldi 6 Giovanni detto Paccarinus per le corde e le cordelle ebbe soldi 5 Andrea e Bartolomeo per la legna le pertiche le scope e i pali e per il trasporto per la detta esecuzione ebbero soldi 30 Colai di Mastro Andrea e Pantocius Fabri per le catene approntate nella detta esecuzione ebbero in quel giorno soldi 15 totale libere 4 e soldi 11 Ecco quindi 13 uomini e pochi soldi per bruciare una donna la cosa che mi impressiona molto è che pensai che cosa poteva aver fatto questa donna per essere bruciata doveva aver fatto qualcosa di terribile ma che cosa questo documento non lo raccontava raccontava soltanto la sua fine allora io incominciai a tenere questa carta qui sotto il cuscino cercando sperando che raccontasse come tante volte tutti gli altri racconti che ho fatto quando mi mancava magari la conclusione o l'inizio di una storia li portavo con me per Adala per esempio per scrivere la storia di Adala sono entrata proprio nella tomba perché altrimenti non avrei saputo mai la fine finché Adala non lo raccontava e così con questo documento ho fatto la stessa cosa l'ho tenuto con me per fare i pimenti ma il documento non parlava finché un giorno un giorno molto particolare era di autunno e guardavo questo foglio e continuavo a leggere questi soldi che erano serviti e questi tredici uomini che avevano bruciato questa donna ho deciso di fare una passeggiata come spesso quando sono triste e melanconica salgo qua su era un giorno particolare nuvolo c'era molto nuvolo e non c'era fatto il sole allora sono arrivata fino a qui mi sono fermata sopra questa villa mi sono seduta pensando a questa donna Rita Angeluti e qui l'ho chiamata Rita Angeluti che era morta bruciata morta per che cosa e di nuovo mi sono seduta qui e ho continuato a chiamarla finché un certo momento proprio alle vostre spalle dietro in quella foresta intonsa ho visto galleggiare delle foglie secche e prendevano una forma un ettoplasma che galleggiava nel bosco con la paura che ho sempre quando a me succedono queste cose ho chinato la testa ho preso la mia cartellina degli appunti e ho iniziato a scrivere tutto quello che Rita raccontava senza mai guardarla senza sollevare più la testa avevo visto solo il fogliame che galleggiava e basta adesso posso raccontarvi quello che Rita ha raccontato era già molto avanti con gli anni Rita che era senza marito quando è rimasta incinta incredibilmente incinta una donna vecchia sapete nel medioevo 1400 1346 una donna che resta incinta dopo i 60 anni era veramente una cosa fenomenica e lei era felicissima però di questo dono che gli aveva fatto la natura cominciò a pensare a Sara la Sara biblica che aveva avuto Isacco come figlio anche lei nella sua vecchiezza Sara aveva 83 anni quando ha partorito per cui pensò che anche lei avrebbe chiamato il suo figlio Isacco come appunto il figlio di Sara e cominciò a parlare con questa creatura che aveva in grembo gli sembrava che tutto il mondo fosse gli sembrava di essere ritornata a nascere e ritornata a vivere e così pensò che doveva essere bella per questo figlio così aveva un'arca in soffitta un'arca che una zia gli aveva lasciato con le ricette per fare le creme per il volto per tingersi i capelli e così cominciò a fare queste creme cominciò a tingersi i capelli che gli ritornarono dell'antico colore negro così da canute bianca come era diventò naturalmente nera e poi cominciò a farsi questi massaggi sulla pelle e la pelle diventava giovane era sempre più giovane la gente del borgo più lei diventava bella e giovane più gli cresceva la pancia e più dicevano che era aveva avuto si era accoppiata con il diavolo aveva avuto un incontro con il diavolo perché era impossibile che naturalmente succedesse questo ma lei Rita non non si preoccupava di questo anzi per lei c'era solo Isacco parlava sempre con Isacco raccontava tutto quello che gli succedeva a questo bambino che ancora aveva in grembo che un giorno Isacco nasce Rita lo raccoglie da sola lo veste lo lava tutto quanto nessuno voleva che la toccasse anche perché tutta la gente del borgo ormai non le rivolgeva più la parola perché avevano paura di lei e quando andava a lavorare Rita aveva un pezzo grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri